Molto bene, ci ritroviamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo. Continuiamo a parlare di costume, società, cultura. In maniera particolare ci prendiamo un po' di tempo adesso per parlare di musica, di grande musica. Lo facciamo con il maestro Luciano Pompilio che ci ha raggiunto nei nostri studi. Buongiorno maestro, ben trovato. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Grazie per la disponibilità a trascorrere qualche minuto con noi. Abbiamo validi motivi per averti qui oggi come nostro ospite ed un anniversario importante. Se la regia ci condivide subito la grafica dell'evento che tu organizzi, ecco ci rendiamo conto che l'anniversario è bello tondo. Quest'anno siamo giunti alla ventesima edizione della rassegna in concerto. Che cos'è questa rassegna maestro? Beh, è una rassegna di musica dal vivo. Strumenti originali, senza apparecchiature elettroniche. Quindi, diciamo, da quest'anno ci sono anche delle novità. Abbiamo aperto anche alla musica jazz, la musica flamenca, la musica world music. Diciamo per un po' coinvolgere un po' tante persone che magari amano dei gusti particolari. Come di consueto maestro, si tratta di un programma, quello della rassegna in concerto, molto ampio, non soltanto nel senso del legato ai generi e alla musica proposta, ma anche in relazione al calendario. È un programma che parte a maggio. Come possiamo leggere, i nostri telespettatori stanno vedendo a tutto schermo il calendario. venerdì 17 maggio, proprio nell'auditorium Mary Pyle del santuario dei nostri frati Cappuccini e San Giovanni Rotondo, e si sviluppa fino all'autunno. Dicembre, fino a dicembre. Fino a tutto dicembre. Quindi, ecco, andiamo a sfiorare all'inverno, ma con questa buona musica non temiamo il caldo e il freddo. Sono tutti professionisti, quindi diciamo di sicuro è un'attrazione per tutti, perché soprattutto adesso venerdì verrà uno delle più grandi violiniste al mondo, che incide per la Deutsch Grammophon e verrà con lo Stradivari, lo strumento che ormai è rarissimo trovare musicisti che hanno questo strumento. Lei è veramente una grande, cioè forse tra le più grandi, e proprio per questo ventesimo anniversario ho voluto invitarla, che poi è già stata qui. È stato un successo e quindi l'ho rinvitata proprio per questa occasione. E hai fatto davvero bene, perché grazie appunto alla rassegna e al tuo impegno riusciamo ad avere a San Giovanni Rotondo questi grandi nomi della musica classica, e non solo. In un'epoca in cui la musica sta viaggiando sulle direttive più diverse, a volte spiazzandoci. Perché, ecco, se posso farti questa domanda, sperando che non sia, come dire, non voglio dire scomoda, ma non sia rispettosa per gli altri generi, ma perché io credo che sia importante, adesso tu me lo confermerai, oppure no, partire dalla musica classica, è un po' la mamma di tutti gli altri generi, o mi sbaglio? Sì, diciamo che nasce proprio con la musica definita classica, che poi alla fine classico sappiamo che è un periodo particolare del 700-800, quindi non è quello. Si chiama classica, ma possiamo dire colta, ma ci sono tanti modi per... Io ho cercato di sin da subito perseguire la bellezza, che è la cosa essenziale, che noi siamo spesso travolti dalla routine quotidiana del... Non abbiamo tempo per riflettere sulla bellezza. Diciamo, secondo me, questo è il tipo di musica, perché è dal vivo e di ascoltarla... Ascoltare uno strumento originale, così come nasce la composizione. Chiaramente oggi i media non fanno altro che trasmettere, ma solo qui in Italia, solo qui in Italia, perché io che ho girato un po', posso dire che la musica classica è seguita anche dai giovani, giovanissimi, ovunque. Questo è un concerto strepitoso dell'anno scorso, violoncello e pianoforte, ma abbiamo abbracciato diversi stili, diversi strumenti. È bello almeno affacciarsi a vedere che tipo di musica è, perché molti non sanno di che si tratta. Poi rimangono incantati e li ritroviamo di anno in anno a rinnovare la tessera, diciamo, per questa rassegna. E ci fa molto piacere. Come dicevi tu stesso, non sei soltanto il direttore artistico di questa rassegna, ma sei anche un musicista di fama internazionale, hai vinto numerosi premi e riconoscimenti, e appunto giri il mondo con la tua chitarra, perché sei un chitarrista, e quindi hai anche il polso della situazione, le riflessioni che ci hai appena condivise, non sono per sentito dire, ma le vivi quotidianamente. La musica ancora oggi, fortunatamente, è una grande occasione di incontro tra le anime. Ecco, lo possiamo ribadire, lo possiamo confermare questo. Sì, è un tipo di musica che porta a riflettere e viaggiare con la testa. Poi, proprio per questo motivo, come hai detto tu, condividere anche il dopo concerto, perché abbiamo associato anche delle varie degustazioni, ma proprio per parlare del concerto, confrontarsi con gli artisti, è un momento molto piacevole, e conoscere anche i prodotti del territorio che il Gargano ci offre. Ebbè, quando si suol dire unire l'utile al dilettevole, mai come in questi casi, può funzionare, soprattutto magari in quei periodi dell'anno in cui si può fare addirittura anche concerti all'aperto, tu ne hai organizzati tanti. Questa rassegna prevede dei momenti di musica all'aperto? Sì, abbiamo un concerto di musica jazz all'Ex Glam, lì dove c'è il palazzetto, non so che... Lo sport. Lo sport, sì. All'aperto con... Quest'estate? Il 14 giugno. 14 giugno. Bene, l'occasione mi favorisce l'invito a seguire su Facebook la pagina Rassegna in Concerto, così da poter seguire passo passo tutte le tappe di questa ventesima edizione, e perché no, anche i profili social del maestro Luciano Pompili, ecco, stiamo vedendo intanto a tutto schermo la pagina Rassegna musicale internazionale in concerto, che viene costantemente aggiornata, dove potrete trovare tutte le informazioni per seguire questa manifestazione. Se dico, non sono andato a leggere tappa per tappa tutti i concerti, ma se dico che la maggioranza dei concerti si svolgono proprio nell'auditorium Mary Pile, dico bene, oppure no, un 50%? Abbiamo 4 o 5 concerti, adesso non ricordo bene a memoria, al Mary Pile, poi abbiamo un concerto all'aperto, come ho detto prima, l'Ex Clam, poi due o tre concerti alla chiesa di Sant'Orso nel Centro Storico, e poi come consuetudine gli ultimi concerti li faremo a Casa Solieve della Sofferenza per dare possibilità anche agli ospiti e ai degenti che si trovano ricoverati in quella data. E questo è un bellissimo gesto, maestro, di cui senza dubbio ti saranno riconoscenti appunto i degenti di Casa Solieve della Sofferenza. Ci tenevamo a parlare di questo bellissimo compleanno, di questa rassegna internazionale organizzata dal maestro Luigi Pompiglio, Maestro Luciano Pompiglio, perdonami, perché tanti di voi che ci seguono quotidianamente vengono a San Giovanni Rotondo, si regano a San Giovanni Rotondo anche più volte all'anno, quindi sapete che potreste arricchire la vostra permanenza a San Giovanni Rotondo partecipando ad uno di questi concerti, motivo per cui vi invitiamo anche a seguire la pagina Facebook della rassegna. Bene, maestro, il tempo in TV generalmente si volatilizza, per cui noi siamo giunti un po' alle battute conclusive di questa chiacchierata, ti lascerei spazio non solo per i saluti finali, ma anche per un messaggio, ecco, se vuoi lanciare un messaggio a chi ci segue. Sì, il mio messaggio è quello di partecipare e condividere insieme ad altre persone la passione per la musica, che per me è un'arma per combattere diciamo i pensieri sterili che regnano nelle persone perché non abbiamo il tempo per riflettere. Questo è un momento, un'ora di ascolto e riflettere, stare da soli con la musica è un invito che faccio e spero di ritrovare tanti il 17 maggio per questa occasione del Aiman Musa Kaya Iema con il suo Stradivari. Focalizziamoci, sì, sono d'accordo con te, focalizziamoci in maniera particolare su questi primi due appuntamenti venerdì 17 maggio e venerdì 31 maggio l'appuntamento è proprio nell'auditorium Mary Pile della Chiesa Nuova a San Giovanni Rotondo e mi auguro anch'io che la musica continui ad essere quel momento di gioia, di speranza che ci restituisca, ci connetta con quella gentilezza di cui parlavamo nel collegamento precedente di cui c'è ancora tanto bisogno, tanto nella quotidianità, nei nostri rapporti interpersonali che è su uno scenario, come dire, sugli scenari anche più vasti, più importanti su scala internazionale. Oggi ci vorrebbe insomma più musica e meno guerre. Bene, allora io ringrazio il maestro Luciano Pompiglio per essere stato qui con noi a festeggiare questo bellissimo compleanno della Rassegna Internazionale in concerto, ventesima edizione, partecipate, godete di questo straordinario calendario. Grazie maestro. Grazie a voi. Buona musica. Arrivederci a tutti, grazie. A presto. Vieni alla regia. Grazie. Grazie.